Si allunga la scia di sangue sulle strade abruzzesi. A perdere la vita a seguito di un grave incidente avvenuto stamane in via delle industrie nella zona industriale di Bazzano all'Aquila, è stato un ragazzo di appena 20 anni deceduto dopo un violentissimo scontro mentre era a bordo della sua moto. Ancora non si conoscono le dinamiche del terribile incidente ma sembrerebbe che l'impatto durissimo sia avvenuto contro un'automobile proveniente dal senso opposto di marcia. Sul posto in pochissimi minuti sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato l'impossibile per tenere in vita il giovanissimo centauro ma purtroppo le gravissime lesioni riportate nello scontro non gli hanno lasciato scampo nonostante la corsa disperata al San Salvatore. Oltre al 118 anche una pattuglia della Polizia Municipale dell'Aquila che dovrà stabilire le dinamiche che hanno portato a questa ennesima tragedia. Solo domenica scorsa infatti un altro centauro di 23 anni di origini campane aveva perso la vita in A24 proprio all'altezza dei lavori autostradali tra lo svincolo di Torni in Parte e l'Aquila Ovest. Luogo questo peraltro dove proprio stamane un altro incidente fortunatamente dalle conseguenze non gravi ha coinvolti altri tre mezzi.